Musica Un cordiale saluto ai nostri telespettatori Benvenuti a Palazzo Nervegna La nostra trasmissione di politica settimanale Tradizionalmente dedicata ai fatti Soprattutto che accadono nel comune capoluogo E quindi a Brindisi ma anche nel territorio provinciale Oggi però ci occupiamo di Brindisi Partendo dai lavori del Consiglio Comunale Una nuova seduta, quella di oggi Durante la quale si è parlato del bilancio consuntivo E dei debiti fuori bilancio Lo facciamo con gli ospiti in studio Che intanto ringraziamo per aver accettato il nostro invito Rappresentanti di partiti Il segretario cittadino della PD Francesco Cannalire E il segretario cittadino della PRI Vito Birgitta Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito Allora partiamo subito I lavori del Consiglio Comunale di oggi Intanto sono stati sospesi Cannalire Oggi il Consiglio Comunale è stato convocato per diversi argomenti I principali erano Il principale era il rendiconto 2018 Il Consiglio Comunale ha sostenuto e ha votato Quello che è stato il bilancio Per tre quarti evidentemente di gestione commissariale E per l'ultimo scorso anno della gestione Rossi Il quadro che è emerso Diciamo è un quadro abbastanza particolare E preoccupante Nel senso che ci sono tante voci di spesa Di previsione che sono rimaste insolute Nel senso che non c'è stata La presunta entrata non si è consolidata E questo effettivamente ha portato questa amministrazione Che purtroppo ha avuto l'onere di dover chiudere il rendiconto A fare delle scelte su diversi capitoli Per in qualche modo quadrare questo bilancio Naturalmente il rendiconto sarà la base del previsionale Del prossimo anno Anche se già questa amministrazione ha adottato Il bilancio di previsione per il 2019 Attuando già delle scelte compatibili Con quello che sarebbe stato poi il rendiconto del 2018 Su cui avevamo già un'idea Visto che è scaduto il 31 dicembre L'ultimo 31 dicembre Su cui avevamo già un'idea su cui impostare il bilancio E questo è stato anche frutto Di un confronto dialettico serrato Con le minoranze Proprio nel Consiglio Comunale dei primi di maggio In cui ci sono delle voci Che legittimamente E naturalmente il sindaco ha voluto riproporre Per sperando Comunque attuando quelle politiche Per far sì che quelle entrate Non fossero più entrate aleatorie Ma si dovrebbero La speranza si dovrebbero concretizzare In quest'anno Mi riferisco alle alienazioni Alla discarica Alla alienazione di beni immobili Alla discarica Su cui c'è già un progetto Un'idea abbastanza avanzata Concordata con la regione Puglia E con l'agenzia Ager Ma sulle alienazioni Già la prossima settimana Il sindaco ha convocato una riunione Con i dirigenti Con chi sarà responsabile di queste procedure E poi un altro capitolo importante E' il recupero dell'evasione Degli impianti fotovoltaici Quindi è una partita abbastanza importante E il sindaco Riccardo Rossi Insieme al vice sindaco Tiziana Brigante Hanno posto la priorità Sulle priorità Proprio su questi tre Su questi tre argomenti Che vedranno già la settimana prossima Concretizzarsi Vito e Birgitta Il PRI Allora facciamo l'introduzione Anche da parte Rappresentato prima È evidente È evidente La maggioranza Lei dell'opposizione Però io volevo fare una premessa Questi travagli amministrativi Burocratici Fanno parte della vita Di tutte le amministrazioni Ahimè E' vero anche Che Brindisi E' in sofferenza Ormai da diversi anni E quindi deve Bisognerebbe risolvere Una situazione oramai incancrenita Da qui La difficoltà maggiore Forse rispetto Ad altre situazioni Che viviamo nello stesso Territorio provinciale Ma anche il comune di Carovigno Un po' di tempo fa Insomma Il sindaco di Carovigno E' uscito Con una lettera Rivolta ai cittadini Facendo sapere Delle difficoltà Finanziarie Del proprio comune E' un problema Che Condivido talmente Tanto quello che Dice Che penso che La situazione Finanziata Del comune di Brindisi Sia Molto negativa E grave Però Visto Quello che dicevamo Poco fa Mi dovete consentire A quel detto Che sbagliare umano Perseverare Comincia a diventare Diabolico Perché proprio Nel bilancio di previsione Dei primi Approvato Nei primi di maggio Forse qualche Rimedio Ulteriore Almeno dal nostro Punto di vista Poteva essere assunto E quale? Esempio Esempio E' fuori discussione Che la gestione Commissariale Ha commesso Degli errori Quello Del Porre a bilancio La previsione Di entrate Per l'alienazione Di beni immobili Che non si sono realizzati Così come non si è realizzato Gli introiti Previsti Da discarica Se vendessimo Batteremmo cassa Ma se non vendiamo Rimaniamo senza Sta di fatto Che questa amministrazione Nel bilancio di previsione Votato Un mese e mezzo fa Ha di nuovo Riproposto Entrate Da rinvenienti Da ipotetiche E fantasiose Vendite Di immobili Del patrimonio Comunale E ancora più Fantasiose Entrate Dalla gestione Della discarica Di otinio A nostro avviso Entrambe Non per essere Voglio dire Profeti di sventura Ma ahimè La realtà Racconta questo Sono stati posti In vendita Immobili Tra l'altro Senza indicarne Quale potrebbe essere La loro destinazione Futura Crediamo Che difficilmente Si potranno avere Quelle entrate Concludendo Il rischio E che Il prossimo anno Ci ritroveremo Di nuovo Con un ulteriore Buco Di bilancio Non si è fatto Praticamente nulla Un piccolo Particolare Lotta All'evasione Siamo tutti D'accordo Sta di fatto Però che bisogna Prendere anche qui Contezza Di una serie Di Crediti Che si dicono Di indubbia Esegibilità Io aggiungerei Quasi un elemento Di certezza Sul fatto Che non saranno Esegibili Proprio Quelle sul fotovoltaico Ho seri dubbi Che possano Essere Recuperati Noi Perché Perché Sono di indubbia Esegibilità Visto il Lasso di tempo Credo che Molti di questi Siano ormai Sotto la scura Della prescrizione Avete fatto Una verifica Candalira Allora Io Chiedo scusa Avevo concluso Rispetto A questa Secondo noi Impossibilità Di recuperare Alcune somme Le strade Da percorrere Noi le avevamo Anche proposte Erano altre Adesso sentiamo Se avete fatto Questa verifica E poi cerchiamo Di capire Quali erano Queste strade Che voi avevate Individuato Per completezza Di informazioni Per quanto riguarda Gli impianti Il recupero L'evasione Degli impianti Potovoltaici Come mi pare di capire C'è una diversità Di vedute Su questa questione Gli uffici comunali Da quello che sono Le mie notizie Si sono già Attivati Affinché Ci sia Questo pieno Recupero Delle evasione E' vero pure Che ci sono Delle sentenze Che nel passato Hanno Diciamo In qualche modo Bloccato Questa Evenienza Questo però Non ci deve far In qualche modo Desistere Dal recuperare Quello che noi Riteniamo giusto Recuperare Da questi investimenti Per carità Investimenti importanti Sono realmente Recuperabili Io sono in prescrizione Questo era Cioè di quelli Che voi contate Di recuperare Avete già considerato Sono stati attivati Tutte le procedure Per recuperare Queste somme Naturalmente Capisco anche Legittimamente Chi deve dare Queste somme Non sarà felicissimo Di lasciare Avrà Gli strumenti Per impugnare Eventualmente Può essere pure Che Come noi Speriamo Anche Che una responsabilità Una presa di responsabilità Su certe Su certe questioni Lasci anche Il fatto che Una città Che ha pagato Un prezzo Su questi Insiedimenti De fotovoltaico Possa chiedere Il giusto Rispetto Di Quelle che sono L'applicazione Giusta Di quelle che sono Le tasse Anche per Ottimista C'è rimasto Purtroppo La situazione Sicuramente Delle casse comunali Non è rosa Non è da tantissimo Tempo In questi Soprattutto Negli ultimi anni La finanza pubblica Ha avuto Un sacco Di Le normative Le norme Si sono evolute E hanno bloccato Hanno molto ingabbiato La possibilità Di fare spesa E comunque Nella gestione Proprio Dei comuni Per Il famoso Patto di stabilità Prima Per Evitare Sperperi Però Eppure Dall'altro lato Purtroppo Abbiamo delle amministrazioni Che devono fare Dei servizi Devono rilasciare Dei servizi Per i cittadini E che Sono ingabbiate E Diciamo Non possono assolutamente Muoversi In Poi non dobbiamo Mervegliarci Se per esempio Siamo ultimi Nella classifica Leggevo Il solo 24 ore Degli ultimi giorni Siamo ultimi In classifica Per quanto riguarda Il riscontro Dei servizi Che il comune Si può erogare Ma Essendo Imbrigliati Ingabbiati E non è una responsabilità A concludere Che facciamo Sì sì Non è una responsabilità Prettamente Io non sono uno che dice È colpa Della scorsa amministrazione Purtroppo è un percorso Che da molti anni Si è andato Sempre più E' un percorso di 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 che nei servizi sociali ci siano delle forme di spreco, intanto non credo che sia l'unico ambito dove ci siano degli sprechi. Quali sarebbero gli sprechi nei servizi sociali? Quello che dice l'amministrazione, per esempio nel ridurre la spesa per sanitaria, evidentemente ritiene che sia una spesa che poteva essere tagliata. Su 15 milioni di euro annui che il Comune spende nell'ambito dei servizi sociali non si può pensare, secondo noi, di tagliare in spesa sanitaria per chi ha bisogno di cure e nell'idea di rivedere tutta la questione degli affido dei minori, i servizi sociali hanno forme di spreco ulteriori dove si poteva efficientare il servizio e ridurre i costi. Quindi dove voi avreste tagliato? Ad esempio già far partire nei servizi sociali uno strumento che esiste, questa comunità ha speso, la nostra città ha speso soldi per una piattaforma che avrebbe consentito, che consentirebbe ai servizi sociali di fare rete, una piattaforma telematica che consentirebbe di fare rete, di incrociare i dati e veramente li stanare chi, qualcuno che approfitta e non avrebbe diritto a qualche benefit, togliendolo tra l'altro invece a chi ne avrebbe diritto. L'uso di quella piattaforma telematica, adesso mi sfugge il nome, quella dei servizi sociali, mi sfugge, va bene non c'è problema, quella per esempio potrebbe garantire un efficientamento dei servizi, quindi migliorare i servizi e contestualmente ridurre gli sprechi, che sono tanti. Ripeto, pensare di ridurre la spesa dei servizi sociali, partendo dalla gestione della spesa sanitaria, dalle spese mediche e dagli affidi è una scelta a nostro avviso sbagliata, argomento rifiuti, non tanto rispetto alla questione dell'aumento della Tari, che noi come Partito Repubblicano abbiamo più volte contestato, proponendo, non adesso, a ottobre dell'anno scorso, dicendo guardate, questo potrebbe essere una proposta per ridurre il costo della Tari. Il costo della Tari non interessa il bilancio inteso come spesa, uscita e entrate dalle parti del Comune, ma per esempio abbiamo proposto strumenti per avere introidi dai rifiuti. Allora, su questo ci torniamo dopo perché vorrei fermarmi un attimo su strumenti per ottenere introidi dai rifiuti. Vediamo intanto il servizio realizzato questa mattina da Fabrizio Caglianiello a proposito dei lavori del Consiglio Comunale. C'è una dichiarazione che poi in qualche modo quella con la quale ha esordito anche Francesco Candanire, la situazione economica del Comune resta difficilissima. Sentiamo che cosa ha detto il Sindaco Riccardo Rossi. Siamo con il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, importante seduta del Consiglio Comunale, il bilancio consuntivo, bisogna fare chiaramente i conti con quelle che erano delle entrate previste dai suoi predecessori dalle precedenti amministrazioni che però non è stato possibile riscuotere. Questo è il primo punto da trattare. Sì, diciamo che io l'ho detto, da quando siamo arrivati, la situazione dei conti del Comune di Brindisi è estremamente difficile. Bisogna dire, adesso non è questione di dare colpe a chi ha preceduto o non ha preceduto, è prendere atto dei fatti. Sono intervenute anche delle normative di armonizzazione che hanno introdotto i cosiddetti fondi crediti tubi esigibilità e quindi il bilancio del Comune di Brindisi oggi risente di fondi di accantonamento per squilibri finanziari di tutti gli anni precedenti che quest'anno sono stati sceliti a 14 milioni di euro. Voi immaginate di costruire un bilancio partendo da meno 14, cioè delle entrate 14 devono essere lì bloccate perché c'è tutta una storia precedente su cui i governi hanno teso armonizzare. Sono questioni tecniche che però poi diventano problemi di gestione della città. Allora noi in questo momento stiamo portando avanti un bilancio, un rendiconto con circa 1 milione e 400 mila euro negativo del 2018 che però è parzialmente negativo nel senso che il disavanzo sarebbe ancora maggiore se non si fosse fatto un'operazione di riaccertamento dei residui passivi. Io chiedo scusa se devo parlare di questioni tecniche però sono le questioni che poi con cui si realizzano questi bilanci. La situazione sarebbe stata ancora più difficile? In realtà lo squilibrio di circa 8 milioni di euro. Quello che abbiamo detto a luglio dell'anno scorso, quando bastava riprendere gli articoli dei giornali, siamo arrivati, abbiamo fatto dei calcoli, c'erano 8 milioni di euro di squilibrio. Questi 8 milioni permangono, cioè con questi fondocrediti di dubbi esigibilità e l'attuale legislazione permane questo squilibrio fra entrate e uscite di 8 milioni. Noi nel 2019 stiamo cercando di colmarlo con la riapertura della discarica, con i riaccertamenti sugli impianti fotovoltaici. È un'operazione difficile, lo sappiamo, però è un'operazione che io penso ci vorrà un po' di tempo e probabilmente anche degli interventi legislativi perché questa situazione state vedendo, leggendo le croniche, pari pari si ritrova in tantissimi comuni perché evidentemente questo atteggiamento, anche legittimo da parte di chi ha fatto queste leggi negli ultimi anni e sta provocando una stretta sui bilanci dei comuni. Quindi noi dobbiamo lavorare in questo senso e io spero che quanto prima, insomma nei prossimi anni, riusciremo a stabilizzare soprattutto le entrate e le uscite perché questo è il vero problema in questo momento per la città di Brindisi. Insomma su questo argomento poi è intervenuto l'assessore Cristiano Del Rico che ha spiegato meglio com'è la situazione, però il sindaco giustamente diceva partire da meno 14 milioni di euro non è semplice. Beh, effettivamente. Come si fa? Da qualche parte. Tra tagli e razionalizzazione della spesa in generale, dismissioni, ci si stanno facendo tutti gli sforzi possibili e immaginabili per mantenere questa situazione, per non far andare in dissesto il comune. Un comune in dissesto, anche se qualcuno, soprattutto in un'opposizione tifa, significa aumentare al massimo tutte le tariffe, tutte le tasse, ogni qualsiasi cosa. Cioè quindi sarebbe un atto da irresponsabili. Visto che qualcuno già nell'ultimo Consiglio Comunale sulla previsione di bilancio tifava quasi affinché il sindaco di Grazia è dissesto al comune di Brindisi e Riccardo coraggiosamente insieme a tutta la Giunta e al Consiglio Comunale non l'ha voluto fare proprio per non metterne nelle condizioni i cittadini di Brindisi di essere ulteriormente sanzionati per colpe che diciamocela tutta, non è che hanno tutti una cittadina di Brindisi, non abbiamo grandissimi colpe sulla cattiva gestione avuta negli ultimi vent'anni, ma pure più, delle finanze del comune di Brindisi. Quindi sta tentando ogni strada possibile, riducendo la spesa e questo sarebbe anche un atto di fiducia da parte dei cittadini. Amministrare una città non è semplicissimo. In questa situazione si sarebbe trovato chiunque avesse vinto, dobbiamo essere anche onesti. Oggi il sindaco l'ha apertamente detto a un Consiglio dell'opposizione dicendo se non avessi vinto io tutti saresti trovati nelle stesse situazioni. E questa è una cosa che se non prendiamo di petto si riferberrà nei prossimi anni, quando non ci sarà più l'amministrazione Rossi. Quindi bisogna essere coraggiosi adesso, fare delle scelte importanti, non drastiche nell'immediatezza, ma avere anche, come posso dire, un tipo di programmazione in questo senso. In cinque anni prevedere delle politiche, fare delle scelte che possano mettere in sicurezza il bilancio del Comune, ma non per l'amministrazione Rossi. Quindi in prestito una frase, è possibile fare manovre senza lacrime e sangue? O è inevitabile per i cittadini? Cioè il cittadino che cosa si deve aspettare a questo punto? Allora, io devo, anche grazie alla vostra occasione, oggi voglio spiegare anche la questione ai Tari, per esempio. La questione ai Tari in valori assoluti non è aumentata. Questa amministrazione purtroppo ha dovuto mantenere fede a una sentenza del Tar Lecce non impugnata da una vecchia amministrazione che ci ha obbligato a riequilibrare la ripartizione della tassa che è stata sempre uguale tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Quindi se uno dice ma la Tari è aumentata? No, non è aumentata. Però questo equilibrio ha previso, per esempio, molte attività commerciali hanno soffrito di uno sconto megagalattico. Mi parlano di bar che addirittura ha avuto uno sconto di circa 2.500 euro. Io spero che questi 2.500 euro di risparmio le abbia rinvestite, per esempio, per assumere una persona. Anche nel periodo estivo. Io questo qua mi auguro. Però non sta a me dirla. Si sta mettendo in campo una serie di questioni e lo stiamo facendo veramente per dare un futuro a questa città. Perché noi in Consiglio Comunale possiamo fare tutte le battaglie politiche e ideologiche che vogliamo ma i numeri non hanno colorazione, i numeri non hanno appartenenza politica, i numeri sono quelli. E quindi al di là delle scelte, uno può fare delle scelte, ma le scelte sono anche limitate purtroppo. Non c'è un vasto campo in cui dici faccio questo o non faccio questo. Le scelte purtroppo sono anche obbligate. Anche quelle che devono essere marcatamente politiche, però sono già canalizzate su certi indirizzi. Birgitta, a proposito, prima parlavamo degli strumenti per in qualche maniera ridurre l'Atari. Prego. Allora, intanto, come premessa, non voglio ovviamente eludere la risposta rispetto a quello che diceva poco fa. Parlo al nome del partito che rappresento. Lungi da noi la volontà o il desiderio che questa amministrazione dichiari il default contabile, perché pensiamo che questa città di tutto abbia bisogno, tranne che di una nuova campagna elettorale. Questa città avrebbe bisogno, al di là di tutte le questioni contabili, di normalità. Cosa? Che in questa città, ormai, da una certa fase in poi, possiamo contarle, gli ultimi dieci anni, qualcosina di meno, non ha più vissuto. Allora, detto questo, che mi correva l'obbligo, dire è una piccola chiosa su quella famosa sentenza dell'Atari, così mi ricollego alla sua domanda e le porgo la risposta. La sentenza che questa amministrazione porta come giustificazione della rimodulazione dell'Atari, in effetti diceva che l'Atari andava rimodulata tra utenze domestiche e quelle non domestiche. la quantità di quella rimodulazione, ecco, l'entità di quella rimodulazione però è una scelta amministrativa, la si poteva fare in diverso modo e non così comportare, non lo volete chiamare aumento, non lo volete chiamare come volete, però alcuni cittadini sull'Atari in bolletta ce l'hanno avuto i soldi da pagare in più, quindi chiamatela come volete, rimodulazione, aumento... una parte però no. Eh lo so, però potevate rimodularla in maniera differente. In percentuale da 51 a 49 siamo passati da 53 a 47. Allora, ripeto, per alcuni cittadini, tra l'altro a mio avviso anche in maniera abbastanza anomala perché ci sono nuclei familiari, ma ripeto, la possiamo chiamare come vogliamo, sta di fatto che un aumento in bolletta i cittadini alcuni ce l'hanno avuta, punto. Quindi dire che l'Atari non è aumentata e non è vero come dire che l'Atari è aumentata per tutti, sarebbe altrettanto non vero. Rispetto agli strumenti per ridurla all'Atari, vedete, la questione è questa, di fronte ad un'amministrazione a cui noi abbiamo fatto sempre, abbiamo cercato sempre di essere propositivi, non per slogan, va bene? Siamo portati a fare questo, pensiamo di avere delle idee e le proponiamo, le mettiamo sul tavolo. Notiamo però, anzi registriamo, che non è che non ci è stato dato, ci è stato detto che non va bene quell'idea per questo e quest'altro motivo, non la si è proprio presa in considerazione. Allora, di fronte alla sordità, non c'è, no? Come si dice, di fronte al sordo che non vuole ascoltare, ovviamente quando poi assume delle decisioni, permetteteci poi di essere legittimati a criticarle, perché noi sull'Atari eravamo intervenuto con una manovra che è a 360 gradi, abbiamo fatto una conferenza stampa anche, l'abbiamo posta sul tavolo quella, quell'idea, ed era un'idea fattibile che in sei mesi avrebbe consentito la riduzione dell'Atari. Lancio una piccola questione e finisco. La conferenza stampa di ottobre avevamo detto che in quattro step si poteva ridurre, intanto riattivando le celle del vecchio impianto di compostaggio, avremmo potuto ridurre in quel modo l'Atari e via via discorrendo fino ad arrivare ad Autigno. Scusami un secondo, ti faccio un esempio banalissimo, oggi tu sai benissimo che è stata riattivata la piattaforma di Ionica Servizi, vero? Chiediamo, poi lei è giornalista, non voglio rubare il mestiere, farà questa domanda a chi di dovere, chi utilizza quella piattaforma oggi? Il comune di Brindisi o altri comuni? Perché a me risulta che il comune di Brindisi dentro casa sua non utilizza quella piattaforma, che consentirebbe una riduzione dei costi e quindi dell'Atari. Questo è uno dei tanti passaggi. Poi rispondiamo a queste... Sì, sì, posso tranquillamente? Prego. Sui step io non voglio, sono anche contento che c'è questo confronto, nel senso che loro a dicembre, a ottobre, proposero delle cose... Ma questo confronto, anche fra maggioranza e opposizione, dovrebbe esserci non soltanto in televisione, no? Io non so se voi avete provato a parlare con chi di competenza, ma scusami, non si interrompo. Della conferenza stampa di presentazione delle vostre idee, cioè poi i luoghi di discussione politica sono altri. Infatti abbiamo richiesto un consiglio comunale monotematico, che ad oggi non ha visto la luce. Sì, rispetto alle questioni volevo rispondere a Vito, però quando si fanno le proposte bisogna essere anche un tantino onesti intellettualmente. Le proposte che hanno fatto loro a ottobre avevano un senso, ed era anche un senso spiegabile, e su cui l'amministrazione Rossi, anche con le giuste divergenze, un percorso un po' diverso, ha intrapreso un'idea quasi simile a queste, ma non è con tutto il rispetto per il Partito Repubblicano, non è che hanno inventato e hanno scoperto l'acqua calda, nel senso che quelle scelte erano proprio frutto di un percorso obbligato, l'amministrazione comunale deve fare quel percorso così come individuato in parte da Vito Brigitta. Ma lui sa benissimo che non sono riconducibili direttamente queste scelte, soprattutto sul ciclo di rifiuti, all'amministrazione comunale. Abbiamo un'amministrazione provinciale, ma soprattutto abbiamo la Regione Puglia e l'Aggia dell'Agenzia per i rifiuti. Quindi fare su una tematica così delicata e molto complessa, molto scivolosa, come quella del ciclo di rifiuti, bisogna fare dei passaggi, brindisi purtroppo, negli scorsi anni, anche sofferto con l'intervento della magistratura in quest'ambito. Quindi abbiamo una discarica, la discarica di autinio sequestrata, abbiamo metà impiantistica, ancora si è sotto sequestro. Man mano, concordando un percorso, una roadmap, queste strutture sono disequestrate, ma per essere attivate hanno bisogno di investimenti e finanziamenti e quindi un tempo congruo per la loro messa in moto. Quindi in sei mesi neanche se fosse stata la Corte dei Miracoli avrebbe risolto la questione. Bisogna attivare un percorso, e questo sì, che sia virtuoso e veloce. E su questa cosa posso tranquillamente dire che essendo Riccardo Rossi una persona per bene, trasparente, da sindaco e da presidente della provincia ha aperto un'interlocuzione seria con l'Ager e con la regione Puglia e quando abbiamo un presidente di regione, con tutti i suoi limiti, che però ha fiducia in un sindaco e si mette a disposizione completa sulla questione dei rifiuti, penso che sia da tenere conto, sulla questione quindi anche della discarica che poi a mio avviso è la priorità per contenere e anche ridurre il costo di conferimento. Noi adesso conferiamo soprattutto il periodo estivo in Calabria, addirittura c'erano discariche di Pordenone. Il costo è notevole di trasporto, quindi si stanno attuando delle cose, però purtroppo, devo dire purtroppo ahimè, non sono delle scelte immediate, cioè deve scontare una procedura molto complessa e molto pericolosa e scivolosa. Per quanto riguarda Ionica Servizi, io non conosco questa società, so però che l'Ager ha convocato diverse società di questo tipo per concordare, per avviare un'interlocuzione affinché si possa ridurre al minimo il costo di trasporto, dalla famosa trasferenza su questi impianti. Sono convinto che il Comune di Brindisi, non notizie in questo senso, ma credo che sia una cosa quasi obbligata. Ci auguriamo tutti che dentro casa nostra possiamo... Facciamo una pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra qualche minuto. Seconda parte della nostra trasmissione, l'ultimo contributo sui lavori del Consiglio Comunale, e poi alleggeriamo un pochino i toni della trasmissione con un argomento che mette insieme maggioranza e opposizione, che è la regata internazionale Brindisi-Corfu, che si è conclusa proprio ieri. Dicevamo, una situazione difficile, è vero, ma l'amministrazione non fa nulla per migliorarla. Lo ha dichiarato questa mattina il Consigliere Comunale 5 Stelle Gianluca Serra. E' vero, i conti del Comune di Brindisi non sono in ordine, la vicenda resta delicata, ma questa amministrazione comunale non sta facendo nulla per risolvere la situazione. Così il Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle Gianluca Serra, nel corso del Consiglio Comunale sul bilancio consuntivo. Purtroppo ci sono somme elevatissime che non sappiamo e vorremmo capire come si potrà rientrare da questa esposizione così elevata. Abbiamo un problema del fondo dei crediti di dubbia esigibilità che arriverà a 50 milioni di euro. Abbiamo, come confessato candidamente dal Sindaco, circa contenziosi per circa 100 milioni di euro. Purtroppo la situazione è difficilissima. Noi abbiamo confrontato poi la situazione così come fotografata dal consuntivo rispetto al bilancio preventivo di previsione che abbiamo approvato a marzo e riteniamo che non si siano adottate le ricette giuste. Si continua a sbagliare, si continuano a fare gli stessi errori e purtroppo per l'anno prossimo forse sarà ancora più dura. Quindi davvero possiamo rischiare di andare in pieno dissesto se non si rientrerà di somme elevatissime. c'è un fondo crediti di dubbia esigibilità di 50 milioni di euro. È una somma davvero... Ma il problema di fatto da sempre è quello. Cioè ci sono in bilancio delle voci che poi infatti non si concretizzano i soldi reali. Purtroppo è così. Il problema è che si è previsto il potenziamento della riscossione ma come noi abbiamo detto in Consiglio Comunale non è un problema di abba o come si sta procedendo alla riscossione. Sono proprio gli strumenti di riscossione che non consentono di recuperare le somme, molte più somme rispetto a quelle che si recuperano. Questo è un problema serissimo purtroppo. Parla da legale o da consigliere? Sia da legale che da consigliere. Quindi davvero c'è un serio rischio di dissesto, a mio modestissimo parere. Speriamo per il bene della città che questo venga scongiurato ma raffrontando il consuntivo con il bilancio di previsione non ci sono grossissime prospettive, a mio modestissimo parere. Ovviamente mi auguro che si ritrovino delle soluzioni ma al momento non ci sono. Secondo noi non ci sono e questa amministrazione non sta secondo me affrontando il problema come dovrebbe. Quindi più che sottolineare questo, altro purtroppo non possiamo fare. Solo che anche la cittadinanza prenda la consapevolezza che i conti sono in una situazione difficilissima. Vuole aggiungere qualcosa che andrà a dire rispetto a quello che ha detto Serra? L'amministrazione non fa nulla per migliorare questa situazione difficile. È facile dire così ma proposte non ne ho sentite dal consigliere Serra. Gianluca è un amico, capisco il gioco delle parti, capisco che chi sta in minoranza oltre a denunciare per carità questioni che non possono neanche essere non compatibili con la propria idea di un'amministrazione, però non ho visto delle proposte serie in prospettiva che possono in qualche modo essere anche assunte dall'amministrazione Rossi per capire se ci sono delle possibilità o comunque un diverso percorso per tamponare questa situazione. Una cosa però me ne lascio dire. Il Comune di Brindisi ultimamente, anche con le nuove assunzioni, ha la fortuna di avere a capo della ragioneria un dottore, Simone Simeone, che posso dire è una persona molto 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 preparata. Di quelle persone che poche volte ho avuto modo nella mia vita, brevissima politica, di confrontarmi. Quindi una persona molto preparata e devo essere sincero, come partito politico, come segretario del Partito Democratico, sono molto tranquillo rispetto alle scelte che, in qualche modo interpretando anche l'indirizzo politico, possa fare il dottor Simone Simeone. Capisco comunque che il gioco delle parti porti a queste polemiche, è naturale, ma io sono convinto che davanti alla possibilità remota per adesso, che il Comune vada in di stesso, credo che la mobilitazione anche delle minoranze possa essere un incentivo per fare sempre meglio, un pungolo, per fare sempre meglio da parte della maggioranza, ma anche della struttura. E voglio ripetere il fatto che sui numeri non c'è appartenenza, sui numeri non c'è appartenenza né colore politico. Ci saranno delle scelte che comunque il cui raggio si è ristretto e quindi saranno quasi obbligatorie. Qualunque fosse stata l'amministrazione di qualsiasi colorazione, gialla, celeste, rossa, grigia, le scelte sono vincolate. Noi abbiamo una questione da affrontare in maniera importante, che sono per esempio le partecipate, che rappresentano un bel peso sulle casse comunali. Un bubone. Un bubone. Diciamo che si sta affrontando per sciogliere qualche nodo. La multiservizio è una società importante e determinante anche per il funzionamento di quei servizi minimi che servono, che danno anche la possibilità di avere una città vivibile. Ecco, dovremmo, davanti a un sacrificio che fanno le casse comunali, dovremmo pretendere di più anche sul lavoro che deve fare la multiservizi. Ultimamente inizio a vedere qualche risultato importante sulla gestione del verde. La riorganizzazione della multiservizi sta dando i suoi frutti. C'è soltanto da veramente tenere e da controllare sistematicamente il flusso delle uscite, perché il problema sono le uscite, ma anche quello di trovare una soluzione definitiva per le entrate. Stanare quanti evadono, e sono tanti a Brindisi. Con controlli incrociati, questo lo stiamo facendo, ci sarà prossimamente un software che darà una mano in questo senso e credo, credo, serve un po' di pazienza, un po' di tempo, credo che si inizierà a incanare su un discorso anche di equità fiscale su tutti i cittadini di Brindisi. Virgitta? Io su questo tema, ripeto, quello che concordo con l'amico Gianluca Serra è il fatto che non ci auguriamo un dissesto, per le ragioni che spiegavo prima. È sicuramente vero che questa amministrazione si trova di fronte a dati oggettivi, ma come dicevo prima, oggi si è votato il rendiconto, è uno strumento contabile, è un fatto tecnico. Secondo noi bisognava intervenire prima nel bilancio di previsione, oggi non contestiamo il voto favorevole della maggioranza a questo rendiconto, contestiamo, ripeto, il contenuto di quel bilancio di previsione che secondo noi andava rimodulato in maniera differente e in parte l'ho detto prima. Consentitemi però una disquisizione breve politica. Ammettiamo che questo software consentirà di introitare, di stanare, come prendo in prestito il termine usato da Francesco, gli evasori, che si riusciranno a fare tutti gli equilibri di bilancio. Va bene, ritorniamo in asse. Poi c'è un problema che è il problema secondo me più grande, più grande, questo è più impellente perché è tecnico, più grande, ma questa città dove va? Perché quello che è il sentore, la percezione è un po' di tutti, non è un fatto, diciamo, del gioco. Il problema è che se non si risolvono le urgenze è difficile stabilire dove si voglia anche andare. Assolutamente sì, però poi entriamo nel famoso detto. Siamo a livello del libro dei sogni. No, no, il libro dei sogni, guardi, non per fare facile polemica, forse l'ha raccontato qualcun altro, ecco, quindi il libro dei sogni l'ha raccontato qualcun altro, perché se qualcuno voleva cambiare la storia, a me hanno sempre insegnato che la storia è scritta, tutt'al più uno la studia e la impara, ma non la si può cambiare, è così. Quello che si può mutare è, diciamo, quello che al di là da avvenire, come si immagina il futuro, come la si vuole scrivere la storia che verrà, non quella che c'è stata. Quindi chi è venuto oggi ad amministrare sapeva benissimo quello che avrebbe incontrato. Mi ricordo una conferenza stampa del commissario Giuffre, nel quale emergeva chiaramente, chiaramente, all'epoca non eravamo neanche in campagna elettorale, emergeva chiaramente che la prospettiva era una prospettiva grave, difficile. Ora, ripeto, quando dico dove vuole andare questa città, non è per raccontare il libro dei sogni, è al di là... No, no, ma io non dico a lei, si mancherebbe, diventa difficile anche fare progetti se bisogna continuamente, quotidianamente risolvere le emergenze. Mi chiedo, se è nato prima o dopo la gallina, cioè forse avere una visione di città aiuterebbe anche a risolvere quelle ataviche emergenze che questa città si porta da un sacco di tempo. Lungimiranza, di questo sta parlando. Chiamiamo di visione, non di visionari, perché i visionari sono quelli che immaginano il futuro ma non hanno poi idee e concretezza, essere visionari e concreti, per, ripeto, senza necessariamente volgere lo sguardo al passato. Qui il dibattito politico spesso si scontra sempre e col solito finale. È colpa di qualcun altro che c'era prima. Allora, adesso parliamo della regata Brinesi-Corfu, però anche lì è scoppiata una polemica per il fatto che il sindaco sia rimasto a Corfu anziché andare all'appuntamento al Mise a Roma. Vediamo intanto il servizio che abbiamo realizzato, perché la regata Brindisi-Corfu è sicuramente l'evento che apre l'estate brindisina, l'evento più importante, quindi vediamo insieme come è andata nell'isola dei Feaci. Con la tradizionale cerimonia di premiazione degli equipaggi cala il assipario sulla 34esima edizione della regata internazionale Brindisi-Corfu, possiamo già fare un bilancio con il presidente del circolo della Vella Brindisi, Teotiti, che organizza questo evento da tanti anni, punto di riferimento del territorio di Brindisi, ma oggi sentita anche tanto a Corfu. L'organizzo con tanta gente dietro, quindi è un lavoro di squadra, di team che lavora per mesi e ci tengo a sottolinearla questa cosa. Quindi io poi mi prendo i meriti, ma i meriti devono essere divisi in tanta gente del circolo della Vela che lavora come volontariato, come assistenti, eccetera. Non cala il sipario perché dopo la premiazione poi ci sarà la classica festa degli equipaggi, che è il momento di aggregazione e di divertimento e per noi anche finalmente di relax, perché sino a quel momento continueremo sempre a lavorare. Quest'anno è stata una bellissima edizione. Prima della partenza, durante, abbiamo diciamo rotto completamente gli schemi, sia per la partenza, per il giorno della partenza, che per l'arrivo. A Merlera. A Merlera, a Ericussa, che è quest'isola nord di Corfu, c'è un piccolo arcipelago di isole, abbiamo deciso di far fermare la regata lì perché come consuetudine da quel momento in poi non c'è mai vento e quindi senza il propellente che è il vento le vele meglio non camminano e quindi questa scelta è stata ben accolta per fortuna degli equipaggi, i risultati poi si vedono alla fine e i feedback sono tutti positivi, quindi soddisfatto. Come si vive la regata a Brindisi lo sappiamo, invece quello che si fa a Corfu forse non tutti lo conoscono, la segreteria, il grande lavoro che c'è prima della cerimonia conclusiva. Sì, infatti, quello che dicevo prima, abbiamo tutto lo staff che lavora qui, che continua a lavorare durante la regata perché ci sono due uffici, ci sono i giudici che anche loro con grande passione e spirito di abnegazione lavorano tutta la notte, anche quello è un lavoro di preparazione che dura mesi. Anche perché non è semplice estirare la classifica finale? E poi i giudici e poi la giuria internazionale perché è una regata riconosciuta come regata internazionale e quindi appunto la classifica, la classifica in tempo compensato, le proteste che fanno parte di tutte le regate, proteste nel senso che è uno schema della regata, se qualcuno pensa che magari la sua posizione non debba essere quella eccetera, c'è un modello che si chiama punto modello di protesta e continua anche il lavoro della segreteria, quindi tutti noi da Brindisi arriviamo qui, abbiamo due uffici che continuano a lavorare notte e giorno praticamente. Ogni anno si aggiunge qualcosa in più, ma qual è stata la cosa più bella, secondo lei Presidente, della 34esima edizione? Beh, pensandoci io penso sinceramente a Brindisi e a tutto quello che siamo riusciti a creare a Brindisi prima della partenza, è stato emozionante, ci sono stati dei momenti particolarmente emozionanti come quello della banda dei Carabinieri e voglio dire grazie anche a Colonnello De Magistris che ha permesso tutto questo, le frecce tricolore le abbiamo viste tutti quanti e tutti gli eventi che siamo riusciti a organizzare sul lungomare, poi vedremo fino a stasera, probabilmente le emozioni continueranno. È una settimana quella che precede la regata Brindisi Corfu, in cui Brindisi cambia volto, si trasforma, il lungomare rivive e i cittadini di Brindisi sarebbero orgogliosi se fosse sempre così almeno per tutto quanto il periodo estivo, magari si starà lavorando anche per quello cannalire. Di fatto però alla manifestazione ha partecipato anche il primo cittadino, con la moglie, con Paola Riccardo Rossi, che però non è andato ad un appuntamento al Mise. Su questo argomento è intervenuto il consigliere Roberto Cavalera che ha fatto polemica e ha detto che sarebbe stato forse il caso di andare a Roma piuttosto che rimanere a Corfu. Il primo cittadino non ha fornito una risposta ufficiale, vogliamo darla oggi, Cannalira? Sentite il sindaco, ne avrete parlato ovviamente, a proposito di uffici. Il sindaco io l'ho visto oggi in consiglio comunale, però non avendo sentito il sindaco mi meraviglio della polemica sterile fatta dall'avvocato Roberto Cavalera. La convocazione era una comunicazione per un incontro tecnico, quindi non era necessario, tant'è che dalla regione non aveva nessun esponente e rappresentante politico, ma sono autotecnici. Gli unici ad avere un rappresentante politico erano il comune di Brindisi e il comune di Civitale. E' andato il vice sindaco Tiziana Brigante. Il sindaco poteva essere collegato in diretta videoconferenza da Corfu, ha ritenuto, con le sue interlocuzioni con il responsabile del ministero, ha ritenuto di non fare anche perché, essendo era ben rappresentato dal vice sindaco Tiziana Brigante, che è soltanto un incontro tecnico in cui hanno ascoltato, anzi non hanno ascoltato nulla, perché il MIS ha comunicato un incontro senza avere le idee chiare. Questa cosa è stata ampiamente denunciata in un comunicato stampa che ha fatto il comune di Brindisi proprio come risultanza di questo incontro. a questo punto ha fatto bene il sindaco a rappresentare la città Corfu in una manifestazione così importante come la Brindisi Corfu, la 34esima edizione della Brindisi Corfu. Roberto Cavalera, capisco il ruolo di opposizione, ma forse avrebbe potuto anche, prima di polemizzare capire di cosa si stesse parlando, perché il vice sindaco, sostenuto da un altro bravissimo ingegnere nuovo acquisto del comune di Brindisi, l'ingegnere Francesco Corvace, hanno chiesto espressamente a Terna, ad Enel e a 2A di venire in città, organizzare questa riunione in città per presentare alla cittadinanza quelle che sono le loro idee di sviluppo e di investimenti per questo territorio. Con tutto il rispetto per il Ministero del Sviluppo Economico, però queste grosse aziende devono parlare con Brindisi e con i cittadini di Brindisi, a cui devono presentare quelle che sono le loro idee di sviluppo su questi due impianti. e Terna dal canto suo, parla la sua parte, perché è la titolare delle reti, perché la questione degli investimenti sulla centrale, conversione, su A2A, è tutto un intreccio di questioni che vanno dal mantenimento della rete, quindi è una cosa su cui il comune di Brindisi ha un'importanza rilevante per il territorio, però naturalmente dovremmo affrontare queste questioni conoscendo appieno i progetti. Non mi hanno mai appassionato le discussioni fatte, le discussioni da bar purtroppo, soprattutto in questi ultimi tempi, infatti sui social, riducendo l'investimento a conversione, carbone, gas e si riapre la centrale a gas di A2A, cose che non esistono in Cielo e in Terra, quindi francamente, e ho fatto anche una richiesta ufficiale delle due società, di conoscere in maniera dettagliata quali sono i loro programmi, anche per aprire una discussione, intanto insieme ai partiti, ma soprattutto in Consiglio Comunale. Birgitta, secondo lei quella posizione di Roberto Cavalera a questo proposito? Non ritengo che sia il caso di fare polemiche sulla presenza o meno del sindaco al tavolo del Mise e la sua presenza a Corfu. Credo che faccia un po' strano che cosa? Faccia un po' strano che il sindaco, l'attuale sindaco Riccardo Rossi, che da sempre ha fatto della battaglia ambientalista, il suo cavallo principale, nel momento in cui si insedia un tavolo che dovrà discutere, seppure era un tavolo tecnico, in prima battuta, di quelle che sono le paventate riconversioni di A2A e Brindisi di Cerano, suona strano che l'ati di quel tavolo e preferisca andare alla premiazione della Brindisi Corfu. Forse una presenza sul tavolo del Mise sarebbe stata più opportuna. Tecnico. Rispetto alla discussione su A2A e Cerano, credo che questa volta la città dovrà stare molto attenta, perché con troppa fretta secondo me si è liquidato senza neanche averne piena contezza, un'idea, un progetto di A2A e oggi invece si fa un po', si strizza l'occhio sempre ad A2A per la riconversione a gas. Ricordo che questa amministrazione, in una delle prime consigli comunali, ha sbandierato la fine dell'era del carbone come se fosse stato merito di questa amministrazione. A2A è spenta e non funziona il carbone da molto tempo, ha ritenuto, ha approvato il Consiglio Comunale all'unanimità di riutilizzare le aree di A2A per la retroportualità della città, dimenticando che quella è un'area privata e soprattutto, ripeto, cassando un progetto di A2A senza neanche chiedere di che cosa stavamo parlando. Oggi, senza sapere di cosa stiamo parlando, invece strizziamo l'occhio a un'ipotesi di conversione che, visto che a questa città piace sempre rimangare il passato, fu avanzata già 15 anni fa e bocciata. Quindi eravamo forse 15 anni in anticipo, 15 anni fa. Francamente mi risulta una conversione a gas. A metano. A oggi? Ah non lo so. No, allora, perché poi non dobbiamo fare disinformazione. No, no, no. Prego, cannalina. Ho detto che non sappiamo. Ecco, a me risulta invece che non è una riconversione. Intanto l'idea progettuale di A2A è smantellare le caldaglie, quindi quello proprio che vediamo di fronte al castello di Forte a mare, guardando verso la città, è che comunque non ci sarà una riconversione a gas. Però è che vincendo, hanno vinto una gara per il mantenimento della rete, sono obbligati a realizzare otto motori marini che vanno a metano, che saranno attivati nel caso Tern a chiedesse il mantenimento della stabilizzazione della fornitura di energia. Quindi non si parla di riconversione a gas di A2A. Questo è importante ribadirlo perché poi la disinformazione purtroppo è sempre quella che arriva prima alla gente. Invece la riconversione a gas è prevista per Cerano, oltre alla riconversione a gas di un gruppo e sono previsti diversi investimenti. Allora, se... La regherina di principio e Birgitta volesse dire gas 15 anni fa, no, con il rigassificatore e oggi in qualunque modo, in un modo comunque riusciamo a ripescare... Non so che cosa voleva Vito... Allora, visto che lo so io cosa è quello che volevo, forse mi sono spiegato male, ma non volevo fare cattive informazioni. Ho detto soltanto che io, sicuramente Francesco, essendo segretario del partito di maggioranza oggi ha più informazioni di me. Magari in un consiglio comunale, questa amministrazione... Ho letto, ho letto, ho letto, ho letto, non so quale sia l'idea di A2A. So soltanto dicendo che tempo fa A2A si è vociferato di un progetto di A2A, va bene, che riguardava i rifiuti e tutto il resto, e riguardava i rifiuti. Non lo sappiamo, non l'abbiamo mai verificato, analizzato nello specifico, non l'abbiamo mai verificato, non c'è, non è stato fatto nessuno. E questa amministrazione, non solo, guarda che non ti sto dando torto, quindi se mi fai finire scoprirai che ti sto dando anche in parte ragione, questa amministrazione ha detto di no. Ora, dico, siccome si strizza l'occhio a qualcosa, sarebbe il caso di discuterne in un consiglio comunale con la città per non correre il rischio di fare la fine di tanti anni fa, dove si sono bocciate cose sbandierando ideologicamente qualche no, e invece oggi si approvano altre cose camuffate in qualche modo. Questo sto dicendo a garanzia di tutta la città, non a garanzia di qualche forza politica, a garanzia di tutta la città. Non sto dicendo che sono contrario o favorevole, lo sto disinformando. A concludere così poi facciamo un'altra pausa. Sì, sì, noi sulla questione A2A, nella scorsa campagna elettorale del 2018, ci sono state diverse prese di posizione dei nostri competitor rispetto al fatto che Michele Emiliano e A2A avessero deciso di realizzare sull'attuale, nell'ottare aria della centrale, un impianto di compostaggio. Mi ricordo come se fosse ieri, polemica a non finire, un impianto di rifiuti a 100 metri in linea d'aria dal centro di città, la puzza, l'emissione odorifere. Noi, in maniera chiara, come movimenti politici riconducibili anche all'aria di Michele Emiliano, decidemmo in maniera autonoma di dare un segnale importante. Dicemmo, lì compostaggio non avverrà mai. Il sindaco, Riccardo Rossi, all'epoca candidato, disse se io da sindaco non avrò mai la possibilità ad A2A di realizzare un impianto di compostaggio. Fine. Ultimamente, anche sulla stampa di questo incontro tra il sindaco e la società A2A che andarono dal sindaco per parlare, poi si è capito che era per presentare un progetto diverso, che era quello di realizzare un impianto per il recupero di plastico o vetro. Ora, noi sinceramente ci siamo rimasti a qualche mese dietro, so soltanto che, e sembra, da quello che ho letto sulla stampa, che abbiamo presentato un progetto che non prevede la riconversione a gas dalla centrale, bensì prevede lo smantellamento delle attuali caldaglie e la realizzazione di di otto motori per il mantenimento dell'energia, dell'amperaggio, non so, io non sono un tecnico, non so, io ho chiesto di avere dei documenti dettagliati per aprire una discussione, come è naturale che sia. Il fatto che il sindaco non sia andato a Roma, cioè non cambia nulla. Il sindaco ha espresso chiaramente l'idea dell'amministrazione comunale su questi investimenti, ha detto che dobbiamo parlarne in città, il vice sindaco e la ginger Corvace lì a Roma hanno ribadito l'importanza di aprire una discussione in città, con tutto il rispetto per il ministero del sviluppo economico, ma sono i brindisini prima di ogni altro che deve conoscere in maniera dettagliata per evitare che la disinformazione possa creare, come posso dire, delle isterie politiche a chi già inizia a sbandierare il fatto che il sindaco Riccardo Rossi è incoerente, non è stato deciso nulla, noi sappiamo soltanto della possibilità di questa cosa, nessuno ci ha presentato ancora nulla, quando verranno presenti faremo le dovute scelte per il bene della salute dei cittadini, ma anche del lavoro, a tutela del lavoro. In politica amministrare significa anche assumersi la responsabilità e in maniera trasparente come abbiamo fatto fino adesso, come Riccardo Rossi ha fatto fino adesso, si porteranno le nostre idee in Consiglio Comunale e ognuno davanti alla città potrà esprimere il proprio pensiero. Facciamo un'altra pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra pochissimo. Facciamo un salto indietro, ripartiamo dal 14 giugno scorso, è stata una giornata particolarmente intensa per Brindisi, intanto perché, prego... Per le grandi emozioni. Grandi emozioni, sì, speriamo che seguano i fatti a queste grandi emozioni, ovviamente ce la auspichiamo a prescindere dal fatto che il sindaco oggi sia Riccardo Rossi, ma in città siamo stati abituati negli anni passati anche a ricevere queste emozioni e poi grandi delusioni. A Puglia Film Forum, che si terrà a Brindisi nel mese di ottobre prossimo e quindi la presentazione della conferenza stampa di questo evento, c'era l'assessore regionale Capone, c'era il presidente della regione Michele Emiliano, c'era anche Raz de Gan che ha omaggiato la città di Brindisi della sua presenza e poi nella stessa giornata si è discusso del progetto della Pala Eventi, insomma una giornata da incorniciare. Iniziamo dal Pala Eventi, perché questa è la cosa che ci interessa in maniera particolare, perché è un argomento del quale si discute da anni, ristrutturazione e rifacimento, non si tratta di ristrutturazione di quello già esistente, vale la pena sottolinearlo, è stato detto anche in conferenza stampa. Partiamo subito con il servizio realizzato, se non erro, da Fabrizio Caglianiello, così ritorniamo un po' a quel giorno e poi possiamo fare anche le dovute considerazioni. Prego. Una giornata importantissima per Brindisi, forse storica. Presso la sala università di Palazzo Nervegna si è svolta la conferenza stampa per presentare e firmare la convenzione che darà avvio alla procedura di realizzazione del nuovo Pala Eventi, una struttura non soltanto per la New Basket Brindisi, ma per l'intero territorio. Hanno partecipato all'appuntamento il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore allo sport Oreste Pinto. La Regione Puglia e il Comune di Brindisi stanno mettendo a punto una procedura finanziaria per poter consentire la costruzione di un nuovo grande palazzetto dello sport per il basket di Brindisi, ma anche per i grandi eventi della città. Si tratterebbe del secondo grande contenitore per eventi dopo il palazzetto Palaflorio di Bari e quindi è un investimento importante. Avverrà con questo meccanismo. La Regione Puglia assieme al credito sportivo mette a disposizione le somme, il meccanismo finanziario, il Comune di Brindisi sceglie il luogo dove realizzarlo e il soggetto privato che lo realizzerà. Quindi come vedete non c'è nessun onere per il Comune di Brindisi che in questo modo però realizzerà nell'area dell'attuale palazzetto il nuovo palazzetto costituendo una vera e propria città dello sport della quale Brindisi aveva bisogno e che Brindisi si era perfettamente meritata grazie non solo alla sua ripartenza generale che va attribuita al merito di questa amministrazione ma soprattutto grazie ai risultati sportivi che la squadra di basket ha conseguito e che in qualche modo diciamo costituiscono Brindisi come la capitale del basket sicuramente pugliese è una delle capitali più importanti del basket italiano. Oggi è una giornata importante perché con questa firma è una firma importante che ha un valore uno simbolico c'è la Regione Puglia è vicino alla città di Brindisi il presidente Michele Emiliano è vicino alla città di Brindisi e vuole costruire con la nostra amministrazione un percorso di rilancio della città di Brindisi. Nel concreto con questa firma si dà l'avvio come se fosse la prima pietra l'avvio alla realizzazione del palazzetto dello sport la città di Brindisi ama lo sport ama il basket e ha la giusta volontà di poterlo ottenere ecco una firma importante e su questo apriamo la strada proprio per il palazzetto. C'è in allegato al protocollo che abbiamo appena firmato tutto il crono programma, è molto dettagliato, adesso partiamo subito con l'avviso che durerà 30 giorni al termine del quale recepiteremo un progetto, sarà dichiarato l'interesse di pubblica utilità e tutto l'iter per arrivare quanto prima alla realizzazione del palazzetto. Questo è quanto, poi abbiamo anche le considerazioni di Nando Marino il presidente della Epicasa Brindisi della società di basket Brindisina che dice se non vedo non credo. Sentiamo. Presidente Marino, è da sempre un argomento di grandissima attualità quella relativa al palazzetto, poi dopo al Palaeventi qualcosa pare si stia muovendo. Sì, intanto grazie per l'attenzione che state ponendo a questa vicenda. Io voglio fare anche un grande in bocca al lupo agli amici del calcio. Io ho festeggiato da Brindisino il ritorno in Serie D del Brindisi Calcio perché credo che questa stagione sportiva verrà ricordata fra tanti anni e per tanti anni. Quindi andiamo avanti sotto il profilo sportivo. Poi, ripeto, oggi è una giornata molto molto importante. Siamo contenti, ringraziamo il Comune, ringraziamo la Regione Puglia nella persona del governatore Michele Emiliano per questa start-up, io la definirei così, perché questo è solo l'inizio di un processo. La gente crede che poi il credito sportivo sia quasi regalato e che poi i fondi propri, io ho fatto dei conti quando ho letto queste notizie, noi, ripeto, non sappiamo neanche come si fanno questo tipo di interventi perché io nella vita faccio tutt'altro e con lo sport siamo distanti a luce da questi tipi di interventi. Però un business plan di un progetto a 10 milioni, 11 milioni, significa che bisogna fare un credito sportivo di almeno 4 milioni se il 40-45% viene dato a fondo perduto. 4 milioni in 20 anni significa che c'è da pagare come rate intorno ai 300-310 mila euro l'anno. Considerate che una struttura del genere per far sì che possa sopravvivere deve lavorare come un'azienda da 300 giorni l'anno, con bar, ristorazioni, palestre, quindi con l'assunzione di almeno 30-35 persone. Quindi non oso immaginare, forse gli imprenditori sanno cosa significa assumere 30 persone tra stipendi, contributi, costi e via dicendo. Quindi questa diventa un'azienda a tutti gli effetti, molto difficile da portare avanti in una città come Brindisi. Però è un'opportunità per il territorio a questo punto a 360 gradi, non soltanto in ambito sportivo o di eventi, ma proprio dal punto disoccupazionale. Esattamente, questa è un'opportunità che bisognerà cercare di portare a compimento e che non rimanga nei sogni nel cassetto, i tanti sogni nel cassetto di questa città. Io sono convinto che si possa fare qualcosa di buono, sono convinto delle parole di Riccardo Rossi e di Michele Emiliano, sono convinto che pian pianino si potrà arrivare. Il problema è che noi come società sportiva siamo già presenti da anni, io ho iniziato a fare il presidente, mi dissero che il palazzetto sarebbe stato pronto l'anno successivo e sono passati già i miei otto anni. Quindi sono diventato un po' più anziano, ho qualche capello bianco in più, qualche preoccupazione in più, però sono diventato come San Tommaso. Voglio ora vedere di che parliamo, vorrei vedere insieme a tutti coloro i quali fanno parte della compagine societaria della New Basket e di che cosa si può organizzare. Però in questo momento, ripeto, noi apprendiamo oggi con piacere questa start-up e poi vedremo cosa succederà. Indubbiamente è una grande opportunità, sarebbe una grande opportunità per questo territorio. Cannalira? Sì, gli argomenti affrontati sabato scorso con Michele Emiliano, Riccardo Rossi e Oreste Pinto sono degli argomenti molto importanti. La questione è l'interlocuzione con la Regione Puglia per Brindisi, è ripresa quando Riccardo Rossi è diventato sindaco. Questo perché? Perché fino a poco tempo fa, un tempo prima, fatto esclusione naturalmente per la gestione commissariale, il Michele Emiliano, la Regione, non aveva questo grande feeling con le amministrazioni e questo, devo dire, purtroppo ci ha penalizzato tantissimo. Non ho nessun timore a dirlo perché è evidente che la Regione, se aveva dimenticato Brindisi rispetto a certe questioni molto importanti. Ora, spero, credo, che i buoni, gli ottimi rapporti tra Michele Emiliano e il sindaco Riccardo Rossi possano, parlo di rapporti istituzionali naturalmente, possano farsi, purtroppo non potremmo recuperare il terreno perso, ma possano dare dei segnali importanti per questo territorio. La questione del palazzetto, in primis, è quella più evidente, quella che va a toccare il cuore della gente che esegue il basket, ma non soltanto. Chi aspira ad avere un contenitore che può essere, diciamo, a 360 gradi utilizzato tutto l'anno per spettacoli, concerti e quant'altro. Quindi una grossa fetta della cittadinanza aspetta una struttura polivalente così come è stata pensata. Ora, come diceva il sindaco, bisogna partire immediatamente con il bando per l'individuazione di chi poi, in qualche modo, la parte privata che interverrà insieme a questi fondi PIA della regione Puglia con il credito sportivo per far sì che, come diceva Nando Marino, si realizzi questo pala eventi. Che non deve rimanere, però non può rimanere una cattedraia nel deserto, deve funzionare tutto l'anno. Guardi, l'intervento dei privati insieme al pubblico deve dare proprio questo il senso. Il privato, che forse dal punto di vista imprenditoriale può pensare di l'utilizzo diversificato della struttura, al contrario del pubblico che avrebbe nelle pastorie burocratiche problemi. Il palazzetto, per esempio, l'attuale palazzetto, è una bella struttura ma fa soltanto una cosa, gestito dal comune, fa qualche partito di basket, raramente viene utilizzato per altra questione che non siano il basket. Un privato invece, pensando anche a un pala eventi anche strutturalmente all'avanguardia, può utilizzare oltre al basket anche per altre cose. E lì poi è la vera ricchezza, è il vero utilizzo imprenditoriale della struttura. Però altri argomenti molto importanti su cui Michele Emiliano e Riccardo Rossi hanno raggiunto in intesa sono, come ho detto prima, la questione dei rifiuti, per togliere... Sì, finiamo questo argomento del pala eventi, poi magari parliamo anche della questione dei rifiuti, altrimenti... No, di quegli argomenti che sono stati trattati da Michele Emiliano, come quello per esempio anche della cittadella della ricerca. Quindi una serie di investimenti, di interventi che sono fondamentali per ridare a Brindisi il palcoscenico che merita. La questione di Apulia Film Forum sarà una vetrina bellissima e importantissima, come ha anche il Medimex Springs. Quindi sono degli interventi che non è detto che Michele Emiliano dovesse fare per forza Brindisi. Ha scelto Brindisi non per una questione elettorale, perché se poi vogliamo essere anche onesti con noi stessi, Brindisi nel quadro elettorale della regione ha un ruolo quasi marginale in termini di voti, ma perché Michele Emiliano ora ha degli interlocutori e Michele Emiliano come Presidente della regione, quindi della regione Puglia, ha degli interlocutori che reputa affidabili, con cui può condividere certe scelte. Ed è evidente che adesso temo che avremo la bulimia di eventi, di investimenti, però l'amministrazione comunale da questo punto di vista è politicamente pronta ad accettare la sfida. Però si vota sempre per le regionali, quindi se anche Brindisi è una fetta limitata del territorio, si vota anche a Brindisi, attenzione. In Italia purtroppo ogni anno si vota e questo significa che non è che tutte le scelte che vengono fatte, certo il ciclo amministrativo di un'amministrazione che sia regionale e comunale finisce, però anche per la continuità amministrativa su Brindisi bisogna fare investimenti, bisogna recuperare il terreno perso e questa cosa sta avvenendo fortunatamente. Diciamo che sono tutti quanti i progetti in cantiere che potrebbero in qualche maniera dare una spinta a Brindisi qualora fossero realmente realizzati. Birgitta, partiamo dalla Palaeventi. Ma intanto è apparso chiaro che, meno male qualcuno ha avuto il coraggio di dirlo, mi riferisco al Presidente Nando Marino, che è un progetto che ha tempi in quanto meno medio-lunghi, non è qualcosa che si potrà realizzare, perché poi a Brindisi a volte si rincorrono le notizie e si parlava già del palazzetto fatto tra un anno e mezzo, non perché questo non è possibile. Quindi, credo che sia un primo passo, come diceva il Presidente Nando Marino, lui ha imparato nella sua storia a... Scusa se la interrompo, una comunicazione di servizio, chiamiamo così, per il regista. Siccome abbiamo parlato anche di Apulia Film Forum, se nello stesso giorno andiamo a ripescare l'intervista di Simonetta Dello Monaco, che è Presidente di Apulia Film Commission, così chiudiamo il cerchio e ripercorriamo completamente quella giornata. Prego, Birgitta. Sì, dicevo, come diceva lui, insomma, poi a Brindisi abbiamo, ahimè, vissuto di tante delusioni che, come sempre nella vita, sono frutto di grandi illusioni. Quindi speriamo che questa volta sia invece la volta buona. Tutto sta in come verrà concepito e partorito il bando per l'ingresso dei privati, perché è chiaro che sarà necessario l'apporto dei privati, ai quali bisognerà consentire di gestire l'intera struttura. Piccola chiosa sulle elezioni regionali, Brindisi è un piccolo territorio, ma ricordo a me stesso che in passato, proprio in sede di campagna di elezioni regionali, è stata un paio di occasioni determinante per l'elezione del governatore della Puglia. Quindi, voglio dire, contiamo qualcosina. Abbiamo l'intervista di Simonetta dello Monaco, se ce l'abbiamo possiamo mandarla in onda. A Puglia Film Forum è un'occasione straordinaria, finalmente, anche per il territorio Brindisi. Sì, è un'occasione straordinaria e strategica, perché il forum di coproduzione vede per tre giorni la presenza di decine e decine, fra produzioni e creativi autori, registi, sceneggiatori, location manager, saranno presenti qui a Brindisi per valorizzare le location Brindisine e questo darà la possibilità di fare nuovi progetti cinematografici proprio in questo territorio. Quindi, non è soltanto la tre giorni di Kermesse del Marce du Cinéma, come lo chiamano a Cannes, e quindi Brindisi come una piccola Cannes, si potrebbe dire. Del resto, il forum lo abbiamo presentato proprio a Cannes in questa ultima edizione ed è stato accolto con grandissimo interesse e grande favore, perché le storie che gli autori raccontano vogliono trovare nuove ambientazioni, nuovi obiettivi, nuove sfide. A proposito di ambientazioni, location, a parte quelle che già sono note, avete pensato ad altro? Possiamo fare qualche anticipazione? Beh, questo territorio è ricco di bellezze ancora inesplorate, sia per la città di Brindisi e sia per il suo Interland, se penso a città come Mesagne, Oria, La Tiana, insomma tutte le piccole città che si trovano sulla spina della via Appia, oppure anche tutte quelle che sono caratterizzate dalla produzione vitivinicola, quindi a sud della provincia di Brindisi, insomma è un territorio bellissimo e che non ha ancora espresso appieno il suo potenziale di valorizzazione in ambito cinematografico. E questo era l'altro evento che in realtà ha preceduto la conferenza stampa, la sottoscrizione del documento fra regione e comune per la realizzazione della Pala Eventi. Ripetiamo, la giornata da incorniciare, anche sotto questo profilo della produzione filmica, diciamo, Brindisi potrebbe dare il suo contributo e potrebbe dire ci sono anch'io nel panorama regionale, cosa che fino a questo momento non è avvenuta. Di attori ne abbiamo tantissimi, anche in Consiglio Comunale. Ci sono sempre stati, quelli non ce ne siamo mai fatti mancare, non è una peculiarità dell'amministrazione Rossi. Candalera, a proposito delle dichiarazioni di… Come ho detto prima, sicuramente la vetrina e il palcoscenico di un forum della Puglia Film Commission è una cosa molto importante per questa città. Devo dire che Simonetta dello Monaco, che non conosco personalmente, però la sua fama arriva prima della conoscenza, è una bravissima professionista, ha avuto la fortuna di sostituire un altrettanto, mi onoro di conoscere Carmelo Grassi, professionista in quel campo, che nella Puglia Film Commission hanno sicuramente, ha sicuramente, Carmelo, investito molto, ha fatto nel circuito non facile del cinema, anche il fatto stesso che abbia avuto un… diciamo l'annuncio della Puglia Film Forum a Brindisi, l'ha dato Simonetta dello Monaco a Cannes, quindi su un palcoscenico dal punto di vista cinematografico molto importante e devo dire che sinceramente non avrei saputo fare di meglio, nel senso che è utilizzare un palcoscenico così prestigioso per lanciare un evento così importante. Non dico, ma qualcuno avrà iniziato a dire ma dov'è Brindisi, perché è Brindisi, capiamo che cos'è Brindisi e quindi questo può dare la possibilità che le nostre bellezze nella nostra città, molte volte sconosciute anche ai Brindisini, possono essere a pannaggio potenzialmente di una platea sicuramente maggiore e anche qualificata, perché poi non noi dobbiamo anche capire in questa città a chi ci dobbiamo riferire. Io sinceramente lo dico anche assumendomi la mia responsabilità, non vorrei far fare a Brindisi la fine che ha fatto Gallipoli. Da punto di vista turistico dobbiamo puntare su un turismo di qualità che porta ricchezza, ma non della ricchezza dal punto di vista economico, anche come culturale, di far conoscere Brindisi a un… Quali strumenti abbiamo per ambire ad un turismo di qualità, come capoluogo? Sicuramente, e questo è una delle priorità dell'amministrazione Rossi, è quello di investire sulla ricodificazione della costa. Quello sarebbe un bellissimo biglietto di revisa, purtroppo negli scorsi anni si è perso più tempo per i proclami, vedasi la fine che sta facendo, fortunatamente adesso siamo riusciti a riprendere in mano la situazione, la spiaggia degli ex ufficiali della Marina Militare, frutto di un… anche quello a mio avviso, lo dissi già a tempo, di uno slogan, faremo una spiaggia pubblica, purtroppo un progetto che secondo me è stato anche scadente, ha prodotto il risultato che l'ISPRA, quindi un istituto superiore dell'amministratore dell'ambiente, ha dovuto bloccare il conferimento di sabbia per incompatibilità, comunque per fare ulteriori analisi, ulteriori approfondimenti, quindi questo ha fatto perdere anche tanto tempo, quindi un chiaro puntare e sviluppare la costa in tutte le sue sfaccettature, dall'utilizzo dei lidi, ma anche l'utilizzo stesso di strutture che adesso sono abbandonate da parte di privati e anche molti relitti pubblici con l'acquisizione dei beni dei maniali che abbiamo fatto negli anni scorsi, serve un progetto di ampio respiro sulla costa e quello secondo me sarebbe il punto principale su cui investire per questi appuntamenti, sono sicuramente da cornice per far conoscere la città e noi dovremo soltanto, abbiamo il compito e l'obbligo morale di insistere, insistere, insistere. Birgitta? Mentre parlava a Francesco, mi ricordavo quando ero piccolino e sentivo così, andavo al mare in quelle spiagge, più o meno, tra la spiaggia della Polizia, quella dei Carabinieri e sentivo i miei genitori parlare di sviluppo della costa, sono passati ai miei 40 anni e non solo non si è assistito allo sviluppo della costa, ma credo che la situazione sia peggiorata, se è vero che oggi esiste un'ordinanza che impedisce la balneazione su gran parte di quella costa per il problema della falesia, è stata rinnovata poche settimane fa, che fotografa una situazione, non è ovviamente colpa di chi ha emesso l'ordinanza, una situazione che è difficile e complicata. Rispetto a quegli eventi, a quella giornata da incorniciare, sicuramente sono tutti eventi utili di promozione del territorio, se ricordo tanti anni fa Matera è diventata poi con il tempo la capitale europea della cultura e prese le mosse da un set cinematografico che scelse Matera come appunto set di un film che poi è diventato La Passione di Cristo. Quindi sono tutte, ma di promozione del territorio, poi bisogna affiancare ovviamente a questi eventi di promozione del territorio, il territorio, che altrimenti poi si chiedono a Cannes dove i Brindisi vengono e non ci ritornano più, perché ahimè per quanto questa città sia una città fantastica, che i primi a doverla riscoprire sarebbero i Brindisini, ci sarebbe da organizzare dei tour guidati. Che invece amano fare le foto lungo i corsi vuoti e pubblicizzare, ci vuole anche un po' di amor proprio ogni tanto, no? Cioè a questa città ha anche bisogno che si parli delle cose belle che ci sono, che si faccia probabilmente una foto a Palazzo Nervegna, una foto alla colonna romana, anziché continuamente pubblicizzare queste immagini deprimenti che però non riguardano soltanto la città di Brindisi, anche altre città hanno magari gli stessi problemi, però noi siamo esperti in questo, nel pubblicizzare gli aspetti negativi di questa città. Quello sicuramente, noi siamo maestri in questo, maestri nel denigrarci, nel criticarci, o meglio nel criticarci forse bisognerebbe fare un po' di critica maggiore. Di criticarci l'un l'altro, non fare autocritica. Vedete, l'immagine di Brindisi in questa settimana, Brindisi Corfu, è l'immagine di come potrebbe essere Brindisi e ahimè lo è soltanto per una settimana. Rispetto alla costa, dobbiamo metterci d'accordo, vogliamo puntare sul turismo, sul rilancio della costa, poi ahimè ci scontriamo con vincoli e divieti, mi riferisco anche all'unico villaggio che oggi insiste su questo tratto di costo e che è chiuso e probabilmente, spero di no, sarà oggetto di confisca. Però, scusami, io sei un bellissimo ragazzo, allora, non deve passare il messaggio che uno fa una cosa e li sequestrano, perché se le cose vengono fatte per bene, nessuno si sogna di sequestrarle. Allora, se vogliamo lo sviluppo di questa città, ci sono delle norme, a volte rigide, se vengono rispettate, nessuno mai sequestrerà o, ok, se no, passo un messaggio sbagliato, Vito, permetti, mi è, abbiamo l'importanza di parlare a tante persone che seguono questa trasmissione, la cosa è chiara, in Italia effettivamente il quadro normativo è molto compreso, tu sei un avvocato e queste cose le sai, però non vuol dire che non si può fare nulla, se si fanno rispettando le regole, a volte anche rigide, sulla questione per esempio dell'urbanistica, ci sono tante leggi molto stringenti per evitare il consumo di suolo, se uno rispetta questi vincoli, per carità, nessuno mai può dire nulla, però non mi vuoi prendere ad esempio, una questione intanto che rappresenta per molti cittadini di Brindisi un'agonia, da tanti anni combattono chi ha acquistato casa, combattono con una situazione anche insostenibile per colpa e non loro, si sono ritrovati dalla sera alla mattina non avere più una casa al mare, per responsabilità non loro, quindi dal punto di vista la politica in primis ha l'obbligo e morale di dire che nella città si può fare tutto, seguendo le leggi, rispettando anche purtroppo le rigide obblighi, però nessuno verrà a sequestrare nulla, la questione di acqua chiara sicuramente va a mettere alle radici in questioni molto vecchie, speriamo che il luglio, io non spero nella conquista, spero che venga sancita la buona fede, così com'è a mio avviso, dei proprietari e possono ritornare proprietari dei loro immobili che continuano a pagare e su cui versano anche le tasse al comune, pagano notari e quant'altro. Detto questo poi una volta sopra il 5 luglio che è la deadline dovremmo anche capire che cosa farne della rimanente parte del villaggio. Allora intanto condivido con te l'augurio che la situazione si risolva nel miglior modo per i proprietari che in qualche modo hanno subito le conseguenze nefaste degli errori evidentemente di alcuni. Il mio riferimento era il fatto che è fuori discussione, secondo me negarlo significa negare l'evidenza che la costa di Brindisi, la costa a nord di Brindisi sia stata penalizzata al di là delle vicende giudiziarie che in altre parti d'Italia sono state risolte dalla politica e dall'amministrazione in un modo che ha potuto consentire poi di godere di situazioni analoghe, in parlo di villaggi. È indubbio che la costa a nord di Brindisi abbia vissuto il veto di ambienti che hanno impedito a questa città per complicità dell'incapacità della politica di spiccare il volo e di vedersi riconosciuto un ruolo più importante. Fermo restando e chiudo il discorso sul rilancio della città in termini anche di turismo che a mio avviso immaginare che Brindisi nel nuovo modello di sviluppo viva solo e esclusivamente di turismo, secondo me è un'aberrazione. Non è nessuno che abbia affermato una cosa del genere. Qualcuno immagina cicli di sviluppo in cui bisogna prendere e sbaraccare tutta la zona industriale, migliorarla sicuramente. No, Brindisi è una città a vocazione industriale, un conto è ripensare determinati meccanismi, situazioni e regole, un conto è dire che andiamo con la ruspa alla zona industriale. Siamo perfettamente d'accordo. Questa cosa è assolutamente improponibile. Canalire prima faceva riferimento a proposito di quella famosa giornata alla cittadella della ricerca, brevemente perché siamo in conclusione. C'è un accordo tra il presidente della provincia, Riccardo Rossi, e il presidente della regione, Michele Emiliano, per restituire tutta quella struttura alla regione in una fondazione in cui avranno divinità sia il Comune di Brindisi che la provincia di Brindisi, affinché la regione possa intervenire investendo per riqualificare tutta quell'area che può essere stabilita e destinata a sviluppo di nuove tecnologie, con distretti che sono dentro, quindi una serie di investimenti importanti che soltanto in una fondazione la regione può fare intervenendo direttamente con risorse proprie. Grazie. Siamo al termine della nostra trasmissione. Grazie a Francesco Candalire, grazie a Vito Piergitta, rispettivamente segretario cittadino del Partito Democratico e della PRI per aver partecipato alla nostra trasmissione. Un saluto anche ai nostri telespettatori ai quali auguriamo una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti.